Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bene ragazzi siamo i crassi, siamo tornati con un nuovo episodio di Rotation One E dobbiamo riscattarci perchè siamo a due sconfitte di seguito Squadra, scazza Porca troia Perchè il Benzevaggio sta lì solo con il letto Non fa il reparto da solo Benzevaggio No, con dietro poi lo tricazza, capito che magari non è che dà la mano Quindi porca, porca troia Che palle, ma perchè non riuscivo non a farsi una scuola così? Ok, in descrizione se volete abbiamo cominciato una collaborazione con un sito di crediti Se volete passateci, se no sti cazzi E sta il 5% di sconto con il nostro codice Comunque può anche passare Eh ma la stavo passando però aspettavo che tu l'ho messo proprio avanti Mamma mia Musa, Musa Musa incredibile Lo fa subito Musa Ho farato a tirare Ho farato a tirare Mamma mia, oltre alla bamba Ti vuoi tirare anche le palle Che la tenda has bisteccio con lui ißt Gente Ok Mursa Oddio muro Oddio muro Oddio muro Oddio muro Oddio muro Oddio muro FALLOO oh 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 dubbia sei tu no non so io però vabbè che comunque passaggio più rischioso nella storia del caso no non è che non cazzo dobbiamo vincere dobbiamo vincere mamma mia incredibile perché i drabani come partono a duemila proprio azuzzo azuzzo eh benzema incredibile il dribbling non gli riesce subito oh oh non fa cazzate oh oh eh non fa cazzate io devi darmi pensore no 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 vai grande vitigno ancora Musa ispiratissimo oggi Musa oh ma no questo è da rosso questo è da rosso pepe per solito cane guardalo se ne va subito ci è legata subito questi tre punti ha proprio musicato subito vittoria 2 a 0 incredibile subito un'altra partita ecco l'altro avversario che quell'altro non si è andato Lukaku Nasri mannaggia Sterling che io non posso venire giù ogni volta che lo vedo che padre che è una bella squadra avessi i soldi sarebbe una bella squadra questa eh si di nuovo Musa ispirato dall'altra partita ecco che sta fa una cazzata cazzo da un momento di affermati è arrivato che sia una volta vabbè che vabbè però bello tu un bia l'ha visto partire tu un bia l'ha 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 un tacitua passata passata non mi sono da voglia ma anche ho fatto madonna no ma benne rossi dai non credo già genzi d rosso ma che cazzo senti è lo stesso principio del primo quindi il principio del dirichimede si fa difficile la partita però fa la cazzata fa la cronauta che è meglio oh cazzo mamma mia graziati dai dai non è possibile ma che cazzo la palla rimane là è bello che se c'era tante non la piava mi stai testa non ha già tenente che fa qui entrate killa guarda mezzo c'è stato tenente non è vero non c'è da anche però va bene comunque perché è messo oh no ma perché luce segna e non ho perché lucavo fanculo ernanese centrale non si può vedere bella guarda mezzo guarda mezzo non mi ha allungato vaffanculo guarda mezzo grande vitigno fatto qualcosa devo dire farlo lo devi fare lo devi fare capito vaffanculo però che cazzo c'è dici e partiti mamma mia dungia 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 musa vaffanculo musa vaffanculo oh no che culo guarda che culo no c'è fallo suo non male cattirato meno male cattirato fallo suo ma rendi conto mamma mia lo spazzone no dai ci stiamo siamo ancora lì siamo ancora lì possiamo riprenderla possiamo riprenderla eccolo eccolo subito la ripartenza la ripartenza l'ha visto ha visto musa musa lo stop musa lo fanno ma perché non vanno mai fino al fondo dai gervinio un passaggio fatto bene devi fa non ti chiedo tanto no 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 sbaglio d'anticipo grande che città oh cazzo no vabbè no no cioè io penso che se succedeva sta cosa io me ne andavo bello la palla l'ho colp al volante metti in mezzo mortacci tua dubbio oddio dubbio che ha fatto no carlo ragion oddio dubbia 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 mortacci dubbia dubbia 1 ma è stato accaduto tutta la partita santo dio dove ci sono ora che cazzo il mondo che ha fatto il ragazzo finita si vabbè la vittoria è una sconfitta comunque siamo vicini la possiamo ancora fare a promozione mancano 5 punti cioè 2 vittorie su 4 partite rimanenti cioè se la può fare veramente ce la facciamo vero? noi ci vediamo al prossimo video e bella